Comandante, una grande giornata per la Guardia Costiera. A Sanremo c'è adesso il piazzale Guardia Costiera in questi 150 anni. Bellissimo evento, un privilegio per noi poterlo festeggiare qua a Sanremo, grazie naturalmente all'amministrazione comunale, al sindaco che ci ha creduto subito, che lo ha voluto fortemente. Si è visto anche dall'organizzazione, possiamo davvero ringraziarlo per questo tocco, per questa vicinanza che ha espresso anche oggi alla Guardia Costiera. Signor sindaco, una zona che si chiama Pignamare, siamo vicini a Santa Tecla, un panorama spettacolare in un luogo che si sta migliorando di giorno in giorno. Sì, diciamo che questo è un ulteriore tassello a questo importante progetto di Pignamare, che come ricordiamo è un progetto comunque grazie ai fondi comunitari europei e anche ai comuni di Sanremo, che aveva proprio per scopo di avvicinare il centro storico, il centro cittadino al mare. Oggi proprio avere questo piazzale, proprio qua all'inizio di Corso Monbello, di fronte a questa bellissima piazza di Pignamare, sicuramente come dicevo è un ulteriore tassello, ed è anche un riconoscimento a tutto il lavoro svolto dalla Capitineria fino ad oggi. Credo che su questo sia stato anche un modo, voglio dire, da parte nostra per dire grazie. Non solo la Capitineria, ma ricordiamoci anche tutte le forze dell'Ordine che oggi sono presenti sul territorio della nostra città e tutte le donne e gli uomini che svolgono il loro dovere. Grazie.